E poi sempre un mare, un mare di podisti e risultati importanti, anche quest'anno, perché c'è stato un dominio, un dominio marocchino con il successo di Saeed Duirmi in 48 e 40. Temeva la volata, la volata non c'è stata. Il secondo classificato, Yassin Kaburi, anche lui marocchino, è arrivato con il tempo di 49.01. Al terzo posto, Benjamin Senibeta Adugna, un atleta africano, ma ormai cittadino italiano, distanza in Abruzzo da tanto tempo, 49.14. Alla quarta piazza, Mohamed Aji, 49.26. Al quinto, Tariq Marnawi, 50.09. In campo femminile, beh, una grandissima atleta si è imposta, un atleta che aveva già vinto a controguerra nel 2010, un atleta realmente di caratura internazionale. La marocchina, Meriem Lamaci, 55.57 il suo crono. Seconda piazza, Simona Santini, 57.52. Al terzo posto, Marcella Mancini, l'idolo di casa, che nonostante i 45 anni continua ad andare fortissimo, un'ora, un minuto e 30 secondi. Non bisogna farsi condizionare da questi tempi che sono leggermente più alti degli anni passati, ma quest'anno il percorso è stato allungato di quasi 600 metri, quindi da 15 chilometri a 15 chilometri e mezzo abbondanti, perché la gara purtroppo non ha potuto passare all'interno di centri storici che sono stati danneggiati dal recente terremoto del centro Italia.